Il numero 4 del 2015 di Notizie Magazine della Regione Piemonte apre con un editoriale dello scrittore Giuseppe Culicchia che esorta a usare di più la bici contro lo smog. Tra i temi istituzionali il meccanismo di accoglienza dei profughi, la polizia locale e le scuole di montagna. Inoltre ampi servizi sull'industria aerospaziale e sull'eredità olimpica e approfondimenti culturali, gastronomici e sportivi. Notizie è consultabile anche attraverso l'app per dispositivi mobili scaricabile dall'Apple Store o da Play Store.